Per la riviera romagnola il nuovo anno porta con sé una novità. Da gennaio 2017 la Regione Emilia-Romagna consentirà ai gestori di stabilimenti balneari di stare aperti tutto l'anno. Ogni comune dovrà regolare gli orari di apertura e il sindaco di Rimini promette mare d'inverno sarà realtà. Non si capisce perché la spiaggia a un certo punto da settembre-ottobre debba andare in soffitta o in magazzino o in cantina incelofonata per poi rispolverarla qualche mese dopo. La spiaggia è un pezzo di territorio, il mare vive tutto l'anno la spiaggia può vivere le diverse sfumature delle stagioni, diversi colori, diversi climi. È chiaro che d'estate ci andremo in costume ma d'inverno potremo andare con bambini a giocare in dei parchi giochi che sono attrezzati, che sono accoglienti, potremo fare le passeggiate, potremo respirare il mare d'inverno. Rimini vuole che la stagione turistica duri 365 giorni l'anno, un processo, quello della destagionalizzazione cominciato negli anni 90 con il turismo congressuale a cui si sono aggiunti negli ultimi tempi gli eventi di fine anno.